Non ha creduto ai propri occhi quando quella strana cosa che galleggiava a distanza non era un pezzo di tronco ma un animale che nuotava anche rapidamente. Era un capriolo, per l'esattezza una femmina di capriolo, piuttosto spaventata e spaesata. Enrico Di Francesco, proprietario del Caronte I, imbarcazione del porto di Giulianova di Bita alla piccola pesca, stava salpando le nasse a circa mezzo miglio dalla costa, a largo di Cologna Spiaggia. La sua barca si stava avvicinando a quella cosa che galleggiava, poi l'ha scoperta quando si è portato al ridosso di quello che all'inizio sembrava essere un tronco. Lo stupore è stato immenso. Sembrava un tronco che si muoveva, però andava troppo veloce e curioso, sono andato a vedere che cos'era. L'animale, visibilmente scorso, ha ripreso a nuotare per allontanarsi dall'imbarcazione. L'intenzione del pescatore era però solo quella di trarlo in salvo. Eh, per catturarlo è stato un problema perché scappava, era veloce. L'ho agganciato col mezzo marinaio, l'ho legato e l'ho tirato a bordo. Avete avvertito la forestale? Sì, subito. La notizia della cattura del capriolo in mare si è sparsa in un lampo al porto di Giulianova. Sono arrivati molti curiosi che hanno fotografato l'animale che nel frattempo, dopo la cattura, era stato issato a bordo e sistemato a prua del caronte primo, con le zampe legate per evitare che potesse tornare in acqua o scalciare. Sono stati avvertiti la guardia costiera e il corpo forestale dello Stato. Gli agenti della forestale hanno poi preso in consegna la femmina di capriolo per affidarla ad un centro di recupero. Sembra, tra l'altro, che altri due esemplari, un maschio adulto e un'altra femmina, siano stati notati nella pineta della Marchesa Mazzarosa. Anche qui la forestale ha cercato di rintracciarli, ma senza fortuna. Nel settembre del 2008, un cinghiale, sempre nella zona di Cologna Spiaggia, fu individuato sul lungomare. L'animale, spaventato, si tuffò in mare, iniziando a nuotare fino a prendere il largo.